Il cello disco è un virus, un virus magico. E' stato il momento in cui l'Italia ha esportato il maggior numero di dischi del mondo. Non era una musica che mi piaceva, poi mi sono reso conto che non si può considerare un genere, ma un insieme di sottogeneri. La definita Fellini, la rappresentante più eloquente della donna italiana contemporanea. Mamma mia. Io andai in vacanza a Londra e tra Michael Jackson, Elton John c'era Dolce Vita alla radio. Prima c'è una musica e poi quando c'è successo, la produzione pensava, chi ci metteremo sul cover? Es ist ein bambino. Se non ci fosse stata quella musica, il sound europeo degli anni Ottanta non ci sarebbe mai stato. L'Italodisco era la colonna sonora di quell'estate. Gli anni Ottanta sono stati raccontati in maniera molto superficiale. Nel contesto italiano dobbiamo parlare di mega discoteche. Da war Italien führen, was so'ne DJ-Kultur betrifft. Noi eravamo futuristi. Indicavamo il futuro. E io sono futuristi ancora. Aha, diese Produktion kam aus Italien. Deswegen dieser Name Italo Disco. Noi eravamo futuristi. Noi eravamo futuristi. Noi eravamo futuristi.